Sì, adesso ci siamo definitivamente perché mi sono messo direttamente a mettere a fuoco il mio viso quindi io mi vedo chiaro e lì indietro si vede leggermente sfocato quindi la messa a fuoco adesso ce l'ho su di me Di cosa parlo adesso e oggi in questo video? In questo video volevo parlare, visto che c'è solo 25 minuti perché poi c'è un appuntamento parlo di qualcosa che è molto importante riguardo la nostra vita cioè il fatto che prima o poi ci ritroviamo a dover metterci la faccia a dover metterci la faccia, cioè proprio al dovere e questo passo qui nel metterci la faccia non lo facciamo perché siamo bombardati e continuamente intrappolati dentro un loop mentale, fisico chiamiamolo come volete, esistenziale la parola spirituale non è che mi si dice molto esistenziale, in cui non ci riusciamo ad uscire fuori da quella comfort zone in cui siamo stati fino ad oggi fino a questo momento e fino ad un certo punto e non riusciamo a fare quel passo in più per poter uscire fuori ed esplorare altri tipi di campi questo ci porta a procrastinare sempre le azioni questo ci porta a non fare le cose che dobbiamo fare per poter raggiungere determinato obiettivo e rimaniamo dentro il nostro comfort zone nella nostra zona di comodità per convincerci che questo passo non è mai necessario che ancora non siamo pronti che non è il momento giusto che gli astri sono contro di noi che prima devo finire una cosa e poi posso farlo che tutte le motivazioni possibili e immaginabili che possiamo inventare li sappiamo, li sapete ce li diciamo tutti quanti nella nostra vita ad un certo punto queste motivazioni per non agire ma queste sono tutte motivazioni create proprio per autosabotarci o al punto di auto, secondo me, metterci in sicurezza perché come esseri umani noi siamo tentati a non fare i passi che ci mettono in pericolo quindi all'autosopravvivenza ad accontentarci della nostra comfort zone per evitare di esplorare altri campi e rischiare di essere attaccati o di essere minacciati o di essere giudicati e quindi perdere la nostra integrità psichica, personale, fisica di perdere la nostra tranquillità, sicurezza di perdere le nostre risorse personali che abbiamo finora acquisito quindi per paura di perdere qualcosa noi facciamo sì che non cambiamo nulla e ci croggioliamo che vogliamo cambiare facendoci magari anche tanti pipponi di video e condividiamo tanti video bellissimi sulla crescita personale sull'essere positivo sul tipo di mentalità imprenditoriale ma poi nella pratica quotidiana sappiamo che non riusciamo nel cuore nostro a fare quel passo successivo perché ci sentiamo bloccati questo proprio succede quando abbiamo una percezione di quello che noi siamo e di quello che vogliamo fare di quello che potremmo raggiungere alterata, distorta e tante altre cose che sono alterate, distorte che non ci permettono di fare quel tipo di passo ora ognuno di noi sa che la sua vita quante volte ha dovuto scontrarsi con un cambio proprio di mentalità, di paradigma che significa? grazie